Il nostro pre-evento di Green Aruba e Europe Smith Americas è stato un incontro molto interessante, molto positivo. Abbiamo un candidato relativamente grande a presentare a noi, a diverse compagnie, a Giacchina di Baranchia, con il nostro interesse per partecipare di un incontro di Green Aruba e Europe Smith Americas. Abbiamo un'interesse di interesse, e ho avuto la compagnie di convenzione che questa è una combinazione di possibilità di creare per un mese, e ci sono anche un'interesse di partecipazione che sia di Aruba, di un partnership per un grande lavoro per il comercio in Europa, di un'interesse di grande, ma anche un'interesse di partecipazione che sia di comercio, di un'interesse di Europa, di un'interesse di Aruba che sia di lavorare significativamente in Colombia e in Baranchia. Noi abbiamo diverse compagnie di informazioni, e noi lo compartiamo, ma c'è informazione e di un'interesse di qui, anche noi, in l'Oscolta, e ho avuto la compagnie di conoscere che non ci sia di più interessanti per il Oktober, e anche ci sono gli esforzi per bene, per ciò non c'è una possibilità di creare qualcosa di sicuro, di un'interesse di partecipare. Quindi ci sono stato un momento positivo. Noi abbiamo un'interesse di Baranchia, che è una grande regione, che è direttore della nostra presentazione. Noi abbiamo anche un'interesse di EWAF qui, anche noi abbiamo un'explicazione di quale è attività di EWAF in Baranchia, tommo in conto con l'Oscolta, con l'Oscolta, con l'Oscolta e l'Oscolta, con 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 l'Oscolta. Quindi è stato un'ottima positivo. Nossi raggiungo, nel museo, qui è stato un'ottima interessante. Come si è stato un'ottima interessante. L'Oscolta più interessante è stato un'ottima interessante. Nossi raggiungo, direcció, del Museo Macinano. E' stata un'ottima interessante. Un'ottima comunicazione molto agliace, in due paesi, Arruba e Colombo. E' stato un giorno, mi sento più frattato, che abbiamo fatto un contatto con la Colombo, è veramente positivo. E' stato anche con Ron Leiden, e' stato un asesoratore, Presidente della Cámara di Commercio di Colombo, Centro-America e del Caribe. E' stato anche con la Cámara di Commercio di Barranchia. E' stato un asesoratore di informazioni e dati. E' stato un asesoratore di contatto molto importante per la Cámara di Commercio e la Baranchia. E' stato un asesoratore di Latina e, per esempio, il Caribe e l'Europa.